Ciao ragazzi, allora stamattina sono venuto a fare questo filmato qua nel recinto dove a volte tengo il mio Hannibal, anche se lui in realtà è libero di girare in quest'area che sarà credo 500 metri quadrati perché lui è un po' insieme a Pamiri, il custode di alcuni recinti dove io tengo dei cuccioli e per evitare che magari qualcuno se ne approfitta io con i miei cani da guardia, faccio anche la guardia dei futuri miei giovani cani da guardia. Ecco sono venuto qui per farvi il filmato su quella che è la decima paura e poi finiamo la serie, queste paure immaginarie che le persone, eccolo qui, che mi viene a trovare, quelle paure immaginarie che hanno sempre impedito, hanno impedito per parecchio tempo le persone a dotarsi di validi cani da guardia. Ecco questa diecima paura immaginaria io l'ho identificata nella paura che molti hanno che i cani da guardia possano fare del male a degli altri animali che loro hanno già nella proprietà. Allora questa, guardate, è una paura diciamo molto sentita dalle persone anche se spesso ha semplicemente a che vedere con la negligenza di volersi organizzare, il mancato interesse di voler organizzare un po' il territorio perché noi siamo abituati appunto a esserci fatta questa cultura con i film dove in teoria gli animali vanno tutti d'accordo, se voi vedete qualche volta la domenica quel programma che è veramente ridicolo che si chiama Paperissima, voi vedete ad esempio pappagallo, gatto, coniglio e cane magari che mangiano nella stessa ciotola, cioè quindi avendo visto qualche volta ciò che ci propina la televisione come attraente proprio perché è una novità, poi la gente pensa che questo possa essere invece la normalità. Allora perché io sono venuto a fare questo filmato con il mio Hannibal che adesso vi faccio vedere qui, qui è una giornata un pulgiosa, sta piovendo quindi devo rimanere al riparo perché lui praticamente è figlio di un cane che veniva dall'ira, che si può dire che loro hanno sempre dormito con i gatti, non hanno mai avuto nessun tipo di problema, però se noi andassimo già solamente a vedere, lui mi ha dato un figlio come Scorpion che non ha problema con i gatti, con gli animali in generale, non aveva neanche problemi con i cricetti di mia figlia quando li aveva, adesso ha un coniglietto, ma non credo lui è pochissimo interessato agli altri animaletti, tollera tutto, però ad esempio sempre da Hannibal è nato Squalo, Squalo invece è un cane che dei gatti non ne vuole sapere e c'è anche da dire che la mamma di Squalo pur essendo figlia di un cane, di una femmina che tollerava i gatti lei non li ha mai tollerati, quindi non bisogna scendere in queste stupidaggie a dire questa razza va d'accordo con i gatti, quella razza non va d'accordo con i gatti, qualcuno dice no, il pastore tedesco è un amico con i gatti, altri dicono no per carità il pastore tedesco no, me li ha uccisi tutti, il rottweiler piuttosto che magari la razza che allevo io eccetera, io ho già selezionato, ho già scelto meglio dire una razza di cani da gregge proprio perché sono molto più predisposti, guardate, vi ho appena detto che il papà di Hannibal era un cane che veniva dall'Iran, io in Iran ho fatto molti studi sul cane da pastore dell'Asia centrale, sono stato molti giorni con queste due tribù di pastori nomadi che si chiamano Bhaktiari e Khashqai, Khashqai sono un po' gli stessi che hanno poi dato il nome a questo fuoristrada che oggi è appunto il Nissan Khashqai che tutti conoscono eccetera, infatti loro hanno proprio degli antichissimi fuoristrada, forse fra i primi che c'erano che gli aveva fornito la Nissan non so quanti anni fa, ecco ed è di lì che dopo avendogli date a questa tribù e questa è una tribù molto famosa come storia della pastorizia che io ho incontrato, sono stato con loro per parecchio tempo, ha poi preso il nome il fuoristrada. Ecco, gli stessi Khashqai loro ad esempio hanno questi pastori nomadi, hanno animali di cortile con i cani, con le pecore eccetera e normalmente vanno tutti d'accordo, ma la mia domanda, ma come fate voi ad avere questi cani che vanno così d'accordo con gli animali? Con un mezzo sorriso uno di questi pastori mi disse semplicemente sopprimiamo quelli che non vanno d'accordo, quindi non si può dire a priori c'è una razza di cani che va d'accordo con gli altri animali e i no qua e altri no, bisogna che ci sia buon senso da parte dei proprietari, bisogna parlare e vedere sempre i singoli soggetti e eventualmente bisogna fare delle prove, per quello che non ha senso prendere dei cuccioli, tanti dicono no ma io lo metto da piccolo così si abitua, non c'è stupidaggine più grande, cioè nel senso se bastasse quello già gli stessi pastori Khashqai non mi avrebbero dato questa risposta, ma la stessa cosa non la farebbero tanti dei pastori che ogni tanto poi devono togliere dei cani perché li stanno mangiando, al contrario magari di altri fratelli, tutte le galline eccetera, quindi in linea di massima quello che vi voglio dire è questo, i cani che io allevo mediamente vanno d'accordo con gli altri animali, è ovvio che bisogna seguire dei principi, cioè se voi mettete un maschio insieme a un maschietto di cane piccolo loro entrano in concorrenza perché sono anche frustrati che non hanno una femmina, ma nel momento in cui il maschio di cane da guardia ha una femmina diciamo dello stesso tipo e loro fanno una coppia e hanno tutto ciò che gli servono e ciò che gli serve è ovvio che questo cane più piccolo non gli dà così fastidio e di conseguenza la convivenza è molto facile. Bisogna nello stesso tempo tenere presente che i cani sono sempre concorrenti fra di loro al cibo, noi tenendoli chiusi all'interno di una recinzione non gli diamo la possibilità di farsi delle zone, di migrare, di andare perlustrare il territorio e cercarsi cibo, devono dipendere sempre dalla stessa fonte di cibo e quindi fanno questo ragionamento diciamo pure bestiale dicendo più siamo e meno abbiamo probabilità di sopravvivere. La stessa cosa anche i gatti sono concorrenti al cibo perché sono dei carnivori, la carne le piace assolutamente anche ai cani, però nello stesso tempo nonostante siano concorrenti tante volte intravedono una, chiamiamola mutualità, un vantaggio di poter convivere tutti insieme e di conseguenza vanno d'accordo. La base è sempre quella, bisogna conoscere bene i singoli soggetti ma specialmente bisogna farsi una cultura, bisogna capire l'animale, bisogna sapere come introdurre gli animali più piccoli se si prendono successivamente e bisogna imparare a introdurre i cani laggiù dove ci sono degli animali, cioè laggiù dove succedono incidenti a danno degli animali non è mai colpa degli animali ma è colpa di chi li gestisse e di chi li tiene tutti chiusi in un recinto che non è stato in grado di prendere le dovute precauzioni. Alla fine di queste paure, ma poi vi farò un filmato riassuntivo, anche questa volta vi dico, per la pigrizia di organizzarsi, tanti sottovalutano il rischio reale che hanno in certe case, tipo fattorie, quelle che potrebbero improvvisamente ricevere delle visite indesiderate e portarne delle conseguenze fisiche e morali, tanto da poi far abbandonare quella casa e dimenticarsi poi di tutti questi animali e doverli trovare una sistemazione. Quindi laggiù dove abitate in realtà, dove volete bene agli animali ma avete anche il problema della sicurezza, vale la pena organizzarsi come fanno in molti, gestire le cose secondo un filo logico in modo da tutelare sia l'incolumità degli animali da parte dell'eventuale aggressione dei cani a guardia ma anche la vostra incolumità, perché non è che ci sia una scala di priorità, ma bisogna mettere sempre almeno tutto sullo stesso piano, pensare anche a tutti i guai che potrebbe avere la famiglia se arrivasse un'intrusione e tenere in considerazione in modo diciamo proporzionale al fatto di invece organizzarsi e non vivere questo sogno come dire di vedarli tutti a vivere insieme e per forza andare tutti d'accordo come vediamo nei film perché poi questo sogno potrebbe poi trasformarsi improvvisamente in un incubo che vi farà poi lasciare la proprietà e dover rinunciare a tutti. Bene, vi ringrazio molto per avermi ascoltato fino a questo punto e vi auguro buona giornata anche se il sole ci ha abbandonati, ma contiamo in domani. Ciao ragazzi, a presto!